Ad Ostia cancelli chiusi nonostante l'ordinanza balneare invernale della sindaca Raggi, che impone l'apertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'altro giorno, in seguito alla protesta del comitato Mare per Tutti, la polizia locale ha multato lo stabilimento Battistini con un'ammenda di 1000 euro. La battaglia per il libero accesso alle spiagge non riguarda soltanto i concessionari nei pressi del pontile. I controlli, secondo il consigliere del decimo municipio Atos De Luca, devono essere stesi anche agli oltre 70 stabilimenti sul lungomare della città. Sinistra Italiana è intervenuta sulla questione ringraziando i vigili urbani per la tempestiva operazione e denunciando lo stato di illegalità. Si tratta di una condizione generalizzata di mancato rispetto della legge, una situazione che segnaliamo da tempo e che vede l'amministrazione in carica particolarmente inerte e inefficace. I beni pubblici, ha concluso, non possono essere privatizzati e utilizzati in modo esclusivo e predatorio, danneggiando i cittadini e aprendo di fatto pericolosissimi precedenti.